Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo con il mio amico Marco che su youtube si chiama Lauren Greco Marco è il mio precisamente E oggi vorremmo fare, abbiamo ordinato un paio di cosette ma giusto un paio Che su amazon e volevamo fare l'unboxing e questo unboxing ve lo dico solo è da 3500 euro Quindi abbiamo preso un po' di robetta Allora inizia tu con questo, ragazzi se vedete in queste buste perché i pacchi di amazon erano rovinati Erano distrutti, mica potevamo farli vedere Sì il mio cane sapete siamo a canna Ok, infatti Ok partiamo con la prima cosa Allora intanto mouse Samsung è della Logitech Non so se si vede ma è della Logitech ed è molto comodo E vabbè solo questo è costato, quanto era? 520 euro Perché era wireless Ok abbiamo Poi abbiamo una cover da telefono Una cover da telefono Cover da telefono per Samsung E qui fallo vedere tu Il La chiavetta usb Per il mouse Per il mouse che è wireless Questi la appoggiamo da parte Ok la cover l'ho fatta vedere Poi la cover da telefono E poi abbiamo una cosa da 1200 euro Il telefono S8 Plus Samsung ovviamente Che ve la consiglio Mettiamoci subito la cover se no Rischiamo che si rompe Ok Che facciamo? Tu questo e io questo Ok Vai ok Allora poi abbiamo Un iPad della Apple Con la cover ce l'abbiamo Già messa noi Sì ce l'abbiamo messa noi Perché avevamo paura che si rovinasse Allora l'abbiamo messa Un iPad Apple Ok E questo arriviamo al pezzo forte Allora Prima di tutto un piedistallo per fare i video Molto semplice Che qua si può Allungare Con i piedi Ok questo lo mettiamo da parte E poi qua c'è una cosa Molto grande Allora È un computer dell'HP E tutto E questo è venuto 3000 euro 3000 Più i 320 Più 100 E il telefono 250 E il piedistallo 60 Siamo a 3527 E questo Una cosa del genere 3520 Questo è un computer Dell'HP Non so se rendi molto Dalla telecamera C'è il logo Due giorni fa Due giorni fa Eh sì infatti Mi confondo un po' Due giorni fa Aspetta spostati Non riesco a venire C'è arrivato Due giorni fa Un Mac Della Apple Il MacBook Pro Questo è costato Che si illumina Guardate quando si chiude Questo è con tutti i Mac Con tutti i dispositivi No non credo Non credo con tutti Questo è il MacBook Air Io il MacBook Pro 7000 euro Solo per dirvi E ragazzi Questo unboxing Si conclude qui Ricordate di iscrivervi al canale E attivare la campellina Per non perdervi nessun altro video Ciao ragazzi Ciao